Radio Streghetta, l'oroscopo. Segui Rinascente Tell e i servizi che ti offre il tuo oroscopo tutti i giorni, sia su Facebook, Twitter o su 899 90 90 70. Ariete. Vi sentirete stanchi e spossati e sul lavoro non mancheranno le critiche, ma dovrete trovare la forza per replicarvi. In amore è arrivato il tempo di tirare le somme su una situazione in sospeso. Toro. Agirete sull'onda delle emozioni, solamente quando la tensione si sarà allentata sarete in grado di riflettere su ciò che avete fatto. Qualcuno cercherà di approfittare della situazione per screditarvi di fronte a una persona particolarmente influente. In amore farete notevoli passi in avanti verso il vostro obiettivo. Gemelli. Attenzione ai giudizi affrettati, rischierete di perdere un affare molto vantaggioso a causa della vostra testardaggine, nel voler decidere preventivamente sulla base delle sensazioni. Ma il provvidenziale intervento da parte di un familiare vi farà riflettere, ma la decisione spetterà comunque a voi. In amore nessun sussulto. Cancro. Siate concreti, avete bisogno di tutta la vostra capacità di mediazione e di un bel po' di sangue freddo. Ogni scelta andrà ponderata dando il giusto peso e fatti e persone. La famiglia ricoprirà un ruolo fondamentale nelle decisioni che assumerete. In amore un pensiero fisso vi porterà a viaggiare con la mente. Leone. Vivrete una piccola avventura anche se un eccesso di protagonismo vi potrebbe mettere in una situazione di disagio, ma grazie all'intervento di una persona molto cara si risolverà tutto con un pizzico di risentimento, ma poi tante risate liberatorie. In amore cercherete di adattarvi alle abitudini del partner, ma vi risulterà un po' difficoltoso. Vergine. Oggi sentirete la forza sprizzare da tutti i pori e sul lavoro i colleghi non terranno il vostro ritmo e ciò provocherà un lieve malessere. Risolverete tutto quindi con un grande sorriso e in amore un incontro vi porterà in orbita. Bilancia. Tutti vi faranno apparire un po' freddi e distanti da una situazione non familiare ma lavorativa o sociale, che vi innervosirà un pochino in quanto voi riterrete di avere delle ottime ragioni. In amore una telefonata o un messaggio in più vi chiamate non guasterebbe. Scorpione. Spesucce e relax che farete assolutamente per conto vostro e assaporerete un po' di libertà dalla solita routine giornaliera. Tranne se riceverete un invito a una serata che si potrebbe rivelare molto divertente nonostante la vostra iniziale ritrosia. In amore vi sentirete dipendenti da un sentimento che sta crescendo. Sagittario. Se la Costanza potesse ricevere un premio, di certo voi dovreste averne uno tutti i giorni. Siete instancabili, amorevoli con chi lo merita e anche con chi non lo merita. E se anche i meriti dovuti, appunto, stanno facendosi attendere, voi mi raccomando, non cambiate mai. Prima o poi i nodi verranno al pettine, vedrete. Capricorno. Un sogno ricorrente da molto tempo, ma che non avete mai voluto mettere in un cassetto, finalmente sta per portare i suoi frutti. Anche se ci sono voluti molti sacrifici e in un certo senso per alcuni era pura utopia. Ma voi, sempre caparvi, ed è giusto che veniate così, e sarete ricompensati. Acquario. Dovrete fare una scelta sul lavoro, sarà per voi difficile trovare l'equilibrio con i colleghi che appaiono ostici. E allora sorridete, e tutto si appianerà. In amore rivaluterete quella che pensavate essere soltanto un'amicizia. Pesci. Un breve allontanamento non influerà più di tanto sul vostro umore, ma sarete colpiti da un gesto nei vostri confronti, che non vi saresti mai aspettati, e la famiglia costituirà il fulcro della vostra giornata, e una notizia insolita porterà il sorriso. In amore, vivrete un momento di serenità che non capitava da qualche tempo.